Chi è smart dà sempre di più. Come Prism Water & Power. Da questo mese ricarichi l'auto e te ne prendi cura con un unico gesto. Da una parte il connettore per la ricarica universale, dall'altra uno spruzzatore d'ultima generazione per il lavaggio esterno. Perfetti e ricaricati al 100%, pronti per una nuova avventura. Preordinalo ora!